Se dovessi riassumere quali sono le cose più importanti da fare per essere in regola con le monete virtuali, io direi una cosa sola. Dobbiamo tenere traccia degli investimenti che facciamo. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Ci teniamo sul nostro computer una cartellina dove mettiamo divisi per mesi o divisi per anni e per mesi le quietanze dei bonifici, la copia dell'estratti conto, magari evidenziamo i soldi inviati all'exchange, periodicamente stampiamo dagli exchange la reportistica delle operazioni, perché un exchange può chiudere, può saltare, può succedere di tutto. Noi stampiamo regolarmente. Al 31-12 di ogni anno facciamo anche dei semplici screenshot dei portafogli, non è che va fatta a mezzanotte, a mezzanotte stappiamo lo champagne. Va bene il pomeriggio, va bene il valore medio. Se vogliamo fare qualcosa in più possiamo tenere traccia anche con un file Excel molto semplice. Non è una cosa chirurgico, quantistica, spaziale, supersonica. Ok? È una cosa molto semplice. È questione di avere in ordine quello che stiamo facendo. Dobbiamo tenere ordine di quello che facciamo in maniera regolare. Questo ti protegge da eventuali verifiche future, per un motivo molto semplice. Perché quando arriverà la verifica, se arriverà, potresti non ricordartelo. Perché le verifiche vanno indietro di molti anni. In questo momento io sto seguendo verifiche che riguardano il 2016-2019. Siamo nel 2022. Quindi bisogna stare attenti. Se noi teniamo traccia, abbiamo la nostra cartellina, con le indicazioni e tutto. In caso di controllo, in caso di richiesta informazione, in pochi clic riusciamo, mi raccomando sempre insieme ad un professionista che risponde sempre il professionista, non rispondete mai in autonomia, non presentatemi mai ad una verifica fiscale in autonomia. Andateci sempre con il professionista. Anche se non hai niente da nascondere, anche se non hai fatto niente di male. Perché dall'altra parte non lo sanno, fanno il loro lavoro, il loro lavoro è accertare, il tuo lavoro è dichiarare quello che hai fatto, senza parlare eccessivamente troppo. Ok? Quindi dare le informazioni che servono. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Grazie a tutti.